Gli operai idraulico-forestali e di sindacati di categoria chiedono alla Regione fondi ordinari al settore della forestazione per dare una stabilità economica e lavorativa agli operai. L'appello viene rivolto a tutti i consiglieri regionali campani. Ad appellarsi alle istituzioni regionali è stato il segretario generale della Flai CGL Campania, Giuseppe Carotenuto, che ha confermato la convocazione in Regione Campania per martedì 19 marzo, alla quale parteciperà una delegazione composta dagli operai idraulico-forestali delle comunità montane. All'incontro in ragione, le tre organizzazioni sindacali si presenteranno con una piattaforma unitaria di proposte per una soluzione definitiva dell'avvertenza forestazione.